Buongiorno a tutti e benvenuti al primo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. A Rossano, in provincia di Cosenza, sono stati sequestrati 1.400 litri di gasolio agricolo abusivamente utilizzati per autotrazione, denunciato l'amministratore di una società. A Rossano la Guardia di Finanza, a conclusione di un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovilleri, ha rinvenuto e sequestrato un quantitativo pari a 1.400 litri di gasolio agricolo di illecita provenienza indebitamente impiegato come carburante per autotrazione, denunciando l'amministratore di una società di trasporti per sottrazione al pagamento delle imposte sugli oli minerali. Le Fiamme Gialle, in seguito ad un controllo presso un'azienda del Rossanese, volto a verificare l'osservanza delle prescrizioni previste dal testo unico sulle accise imposte, i cui sono assoggettati i prodotti energetici per l'autotrazione, si sono insospettite dopo aver analizzato i registri rinvenuti presso gli uffici della ditta, in quanto dagli stessi risultava che i mezzi aziendali effettuavano il rifornimento solo in località estremamente lontane dal luogo di partenza. In seguito ad una più precisa ed approfondita ispezione, i finanzieri hanno rinvenuto all'interno di tre autocari di proprietà della società un quantitativo di 1.400 litri di gasolio recante, del caratteristico colore verde conforme a quello dei carburanti impiegati in agricoltura e beneficiari di specifico regime agevolato. Atteso che l'amministratore della società non è stato in grado di dimostrare la lecita provenienza del carburante, il prodotto è stato estratto dai serbatoi degli automates e sottoposto a sequestro penale, poiché trattasi di carburante illegittimamente detenuto e sottratto ad imposizione ai sensi del testo unico di settore, che sanziona con la pena fino a tre anni di reclusione, chiunque destini ad uso diverso da quello previsto, carburante immesso sul mercato in virtù di regini agevolati come appunto quello agricolo. Il gasolio agevolato per l'agricoltura, ricordiamo, gode infatti rispetto a quello utilizzato per autotrazione di una particolare agevolazione consistente e in una riduzione per l'IVA pari al 10% anziché al 22% che consente un prezzo finale di vendita al gasolio agricolo mediamente più basso di 0,50 centesimi al litro rispetto a quello per autotrazione. A Mendicino, in provincia di Cosenza, sono state indagate tre persone in concorso per furto aggravato e continuato di alberi di proprietà comunale. La Procura della Repubblica di Cosenza nei giorni scorsi ha notificato tre avvisi di conclusione di indagini preliminari ad altrettante persone, 12 risano e un giovane domiciliato presso Mendicino, indagati in concorso per furto aggravato e continuato di alberi facenti parte di complessi boscati situati all'interno della proprietà demaniale del comune di Mendicino in provincia di Cosenza. Le indagini sono partite tra fine inverno e inizio primavera nell'ambito dei servizi di controllo del territorio mirati alla salvaguardia del patrimonio forestale svolti nella zona montana di Mendicino dai militari della stazione Carabinieri Forestari di Cosenza ai piedi del versante sud-est di Monte Cucuzzo, zona questa caratterizzata da boschi di alto fusto di Ontano, Napoletano, Pino Laricio e Faggio. Durante l'attività effettuata con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza e appostamenti sono state individuate le tre persone autori di diversi furti di alberi nella zona inserita quale sito di importanza comunitaria facente parte della rete Europa Natura 2000, sempre di proprietà comunale. Il personale intervenuto inoltre attraverso puntuali rilievi sul campo rilevato le numerose piante oggetto di furto al fine di stimare il danno economico patrimoniale subito dall'ente proprietario per un valore di decine di migliaia di euro oltre al danno ambientale e paesaggistico. E a settimo di Montalto Uffugo, dopo le ultime rapine, si chiede un rafforzamento della pubblica sicurezza. Qualche giorno fa abbiamo parlato di una serie di furti in poche ore verificati a settimo di Montalto Uffugo, zona facente parte dell'area urbana di Cosenza ed in particolare ad un distributore di benzina e a un supermercato con i malviventi che hanno sfondato la porta d'ingresso con un veicolo. Una situazione che ha destato preoccupazione fra i cittadini residenti e fra i proprietari delle attività commerciali. Sulla vicenda è intervenuta anche Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, che ha chiesto il rafforzamento della pubblica sicurezza sul territorio di Montalto Uffugo, cittadina di poco meno di 20.000 abitanti, in forte aumento demografico ed importante snodo veicolare per la vicinanza con lo svincolo autostradale. Si assiste a un aumento di atti delinquenziali ai danni delle attività economiche presenti sul territorio, si legge in un comunicato con un utilizzo sempre maggiore di armi importanti. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, chiede a Gran Voce che venga rafforzata nel più breve tempo la presenza degli uomini di pubblica sicurezza nel territorio di Montalto, istituendo anche un secondo distaccamento della caserma dei Carabinieri. E cambiamo argomento, passiamo alla politica e ai nostri microfoni. Abbiamo ascoltato l'Onorevole Angela Napoli che ha commentato la situazione degli ospedali in Calabria. Onorevole Angela Napoli, ospedali che chiudono, ospedali nuovi che dovrebbero essere realizzati, però niente, solo chiusure e di nuovo niente? Di nuovo niente perché alla base ci sono stati dei problemi, a mio avviso anche voluti, per determinate sottovalutazioni. Prendiamo l'ospedale della Piana che dovrebbe essere costruito a Palmi, a parte la questione della scelta del sito e delle cose ormai sicuramente superate. Però oggi la Regione Calabria è costretta a chiedere risarcimento alle infrastrutture lombarde, che è una società della Regione Lombardia che ha avuto gli incarichi progettuali. E già nel momento dell'assegnazione dell'incarico è sembrata una cosa assolutamente assurda. Poi il progetto e l'appalto per la costruzione è stato giudicato alla tesis di Catania, una società che guarda caso da Catania arriva in Calabria, non si capisce come, e guarda caso subito dopo all'interdittiva antimafia. Quindi ci sono delle situazioni che hanno veramente grandi responsabilità alla base. Il discorso è uno che continua a rimanere assente in Calabria, il diritto alla salute dei cittadini. E a Cosenza si è tenuto un incontro sulla raccolta differenziata. Vediamo come è andata nel servizio. Quello dei rifiuti è uno dei temi dei quali tanto si è parlato e che continuano a creare grossi problemi, soprattutto se si pensa allo smaltimento e alle discariche. E la Calabria negli anni non ha fatto certamente eccezione. Del sistema dei rifiuti si è parlato in un seminario organizzato da Ance e Conai a Cosenza. Nel corso dei lavori si è ribadita l'importanza della raccolta differenziata che è diventata ormai un'esigenza ed in tal senso Cosenza è l'unico capoluogo calabrese che ha raggiunto una percentuale soddisfacente. Non possiamo più continuare ad inquinare mettendo i rifiuti poi converendoli nelle discariche perché le discariche inquinano il sottosuolo e dopo diversi anni poi devono essere bonificate come sta capitando per esempio in tutti i siti, anche quelli paesagisticamente più rilevanti come nella Sila, ma anche a Cosenza, a Borgo Partenope, negli altri posti dove i rifiuti sono stati negli anni sepolti nel sottosuolo ed oggi creano problemi ambientali. Quindi non è questa la strada. Era molto semplice fare così ma abbiamo capito che questa non può essere la strada percorribile. Oggi chiediamo ai cittadini di partecipare a queste buone pratiche perché la sostenibilità è un concetto altruistico, cioè non si può pensare di produrre rifiuti e abbandonarli in modo indifferenziato per poi sostanzialmente creare inquinamento ambientale. Dobbiamo far capire che questo oggi non è più possibile. Ecco perché chiediamo una maggiore responsabilità e chiediamo anche di collaborare. Il comune di Frascinetto in provincia di Cosenza ha ospitato la prima edizione della Festa della Vendemmia. Degustazioni enogastronomiche, incontri culturali, mostre, musica e spettacoli. Tutto questo è la grande Festa della Vendemmia a Frascinetto, una a tre giorni dalla direzione artistica di Enzo Barbieri che ha lo scopo di far conoscere soprattutto ai giovani le proprie origini racchiudendo il tutto in un calice di vino. Questa è la prima edizione della grande Festa della Vendemmia voluta fortemente dall'amministrazione comunale in collaborazione con Enzo Barbieri. Questa sera si assaggerà del buon vino servito in brocche in coccio e i piatti tipici di Barbieri completeranno la degustazione e i ragazzi dell'oratorio ci stanno allietando già con i canti tradizionali Arbrech. Prima grande Festa della Vendemmia, l'amministrazione comunale vuole dare un segno tangibile perché crede in questo prodotto che ha fatto la storia di Frascinetto nel corso dei secoli direi, ha fatto la storia di questo paese. Tutti noi siamo cresciuti con l'odore del mosto negli anni scorsi. Questa prima edizione viene contrassegnata da un fatto direi esclusivo perché abbiamo ospite qui questa sera Luigi Soini che è il guru del vino della pace, inventore del vino della pace e questa sera scopriremo una botte dipinta da un noto maestro pittore che si chiama Silvio Vegliaturo, che è anche lui calabrese, che vive in Alta Italia ma che è solito dipingere le botti. Questo è un primo segno arte e vino, è la prima botte dipinta dal maestro Vegliaturo che sarà conservata nel nostro comune come segno di questa prima manifestazione e ogni anno ripeteremo questa procedura con un artista che vuole dipingere una botte e faremo un museo dell'arte e del vino dove le botti e il vino la faranno da padroni con l'abbraccio dell'arte. E concludiamo con il calcio, si gioca oggi il turno infrasettimanale di Lega Pro. Non c'è tempo per riposare perché è già il momento di tornare in campo per le squadre calabrese di Lega Pro. Sarà un turno infrasettimanale molto importante soprattutto per il Cosenza che dopo il cambio di allenatore e la sconfitta contro il Catania dovrà assolutamente far punti per risalire in classifica. Non sarà però un compito facile perché la formazione di Braglia sarà impegnata nel derby del Granillo contro una regina, reduce la pareggio sul campo della Virtus Francavilla che in classifica occupa una posizione decisamente migliore, ovvero il sesto posto a nove punti frutto di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Il Cosenza dovrà risolvere i suoi problemi offensivi che si sono palesati ancora una volta nella gara contro il Catania, match che comunque ha dato qualche indicazione positiva al nuovo tecnico Braglia. Dal canto suo però la regina vorrà prolungare la striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi. Gli Amaranto tra l'altro giocheranno il terzo derby in sole sette gare dopo la vittoria contro il Catanzaro e la sconfitta nella prima giornata di campionato contro il Rende, vendicata poi nella partita di Coppa. E a proposito del Rende, i biancorossi tornano in campo dopo il turno di sosta e vogliono interrompere la striscia negativa. Dopo lo duvitorno nelle prime due giornate, la formazione di Trocini ha rimediato quattro sconfitte, cinque considerando la Coppa. L'occasione per interrompere il digiuno potrebbe essere Ghiotta. Il Rende infatti sarà ospite del Fondi Fanalino di Coda e capace di ottenere un solo punto in sei gare, quello alla prima giornata sul campo della Catania. Un risultato sorprendente seguito poi da cinque sconfitte, guai però per il Rende a sottovalutare l'avversario. E per questa edizione è tutto, io vi aspetto alle 14.30 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi.